Mami, Mami, sono tornata. Rossella, tesoro mio. Oh, Mami, sono così. Dov'è la mamma? Eh, Miss Wellen, Miss Karin, si sono ammalate di tifo. Sono state molto male, ma stanno bene ora. Solo un po' deboli, come gattini. Ma dov'è la mamma? Miss Wellen, lei andò a curare Emil Slattery, la straccione bianca, e prese il tifo anche lei. E le rinuote... Mamma! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.